Installata al porto di Agropoli, un'isola ecologica informatizzata e videosorvegliata, destinata al momento ai soli esercenti che operano nella zona, ovvero porto e piazza della mercanzia. Sarà attiva dalla prossima settimana e sarà posizionata all'ingresso dell'area portuale. Essa presenta una serie di scomparti di diverso colore, destinate alle varie categorie di rifiuto. Per poter essere abilitato a conferire i rifiuti differenziati, l'ente dovrà essere titolare del ruolo Tari e dovrà inserire la propria tessera sanitaria prima di poter conferire il rifiuto. L'isola ecologica inoltre presenta un distributore automatico di buste che può essere usufruito da tutti gli utenti titolari di ruolo Tari con la medesima cadenza, ovvero tre mesi, già utilizzata per ritirare le buste della differenziata presso l'ufficio di distribuzione Sarim. Altre cinque mini isole ecologiche sono state posizionate quattro presso il lungomare e una quinta ancora presso il porto turistico.